Quasi 4.000 studenti comaschi, 3.894 per la precisione, pronti all'esame di Stato. Un esame che negli ultimi due anni è stato modificato, trasformandosi soltanto in una prova orale a causa della pandemia. Domani tornano gli iscritti, si riparte dal tema d'italiano, mentre giovedì toccherà alla prova multidisciplinare, diversa per ogni indirizzo di studio. Quindi toccherà di nuovo agli orali. Penso che per loro sia importante che quest'anno finalmente si possa svolgere delle prove che sono un po' in linea con quelle che erano le indicazioni del 2017 che rinnovava completamente gli esami di Stato. I ragazzi arrivano a questo appuntamento con la tradizionale agitazione e con alle spalle due anni non certo semplici. In totale sono 30 gli istituti comaschi coinvolti, tra statali e paritari, 96 le commissioni esaminatrici. Credo che quella della didattica a distanza sia stata un'opportunità in un momento di grande difficoltà che abbiamo attraversato e che non dobbiamo assolutamente dimenticare. Credo alle commissioni chiaramente di considerare questo aspetto perché la fatica e l'impegno che hanno avuto questi ragazzi e le loro famiglie non è stato da poco. Intanto, come da tradizione, è già scattato il tototracce. In rete circolano come sempre delle ipotesi, ma i dubbi saranno sciolti soltanto domani mattina all'apertura delle buste. Dopo giornate caldissime e non solo per le temperature, è stato chiarito che durante l'esame non sarà obbligatoria la mascherina, ma raccomandata. Alcune prassi sono ormai consolidate, finestre aperte, distanze e igienizzazione delle mani. Per i candidati positivi al Covid, previste delle prove suppletive. Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Como ed ex Ministro dell'Istruzione, sollecitato proprio sul tema delle mascherine, sottolinea come non sia mai facile prendere delle decisioni che mettono tutti d'accordo. Quindi l'augurio e le aspettative in vista del prossimo anno scolastico. Tornare a una sorta di normalità e nella speranza che questo virus termini i suoi effetti nefasti nei nostri confronti. Grazie a tutti.